Nella giornata di ieri a Matera sono state scoperte dalla polizia locale persone che esercitavano il servizio di trasporto pubblico in modo abusivo, più precisamente il servizio di tassista. I controlli che sono stati effettuati nei giorni scorsi hanno fatto scoprire che molti che operavano nel settore dei trasporti erano privi di titoli per esercitarlo. Questi proponevano trasporti sia a zone urbane che extraurbane, alcuni degli operatori sono residenti anche in altre regioni. Nei prossimi giorni si provvederà a prendere provvedimenti per questi lavoratori illeciti.